video run.it, ben ritrovati ancora una volta sulle nostre pagine web e grazie sempre per la fiducia, per l'affetto, per le emozioni che ci fate rivivere anche attraverso le domande che arrivano nei messaggi privati o anche l'entusiasmo che ci ripaga sicuramente di tutto il lavoro che ogni giorno facciamo per darvi tutti gli strumenti per portare avanti quella che è la vostra passione. Ci siamo lasciati con una domanda e in particolar modo nel video precedente ci siamo lasciati con una differenza che per noi è essenziale per dare poi una risposta a quella domanda. In particolare abbiamo parlato di fibre lente e fibre veloci. Da questa differenza oggi possiamo arrivare a mettere qualche paletto in più e magari arrivare a rispondere a quella che è la domanda da cui siamo partiti. Sono più un runner veloce o un runner di resistenza? per chi non l'avesse fatto ovviamente vi invitaria a mettere qualche paletto in più e poi invitiamo a rivedere quello che è il video in cui abbiamo parlato la differenza tra fibre lente e fibre veloci perché è essenziale per poter proseguire appunto in questo lungo viaggio che ci vuole portare alla risposta alla domanda da cui siamo partiti. Sono più un runner veloce o un runner di resistenza? quello che però ci tengo a sottolineare fin da subito adesso è che come abbiamo già detto la volta scorsa non è possibile parlare di un solo tipo di fibre o meglio non è possibile dire che un runner abbia un solo tipo di fibre ma tutt'a più che abbia una prevalenza quindi se sono più potente allora sono più quotata la velocità se sono più portato per il chilometraggio allora forse ho una maggiore attitudine a quella che è la resistenza ovviamente a stabilire tutto questo è la genetica quindi sono mamma e papà prendiamocela con loro in un certo senso forse la domanda che dovremmo farci è un'altra è possibile intervenire sulla genetica o meglio è possibile trasformare in un certo senso quello che madre natura ci ha dato? la risposta è sì si può fare e come? semplicemente attraverso l'allenamento è chiaro che però non dobbiamo pensare che tra un mese abbiamo già ottenuto i nostri primi risultati e siamo pronti per affrontare la finale dei 100 metri assolutamente ma si tratta di un lavoro che richiede tempo di un allenamento che vuole continuità e vuole soprattutto anche una certa intensità quindi è solo nel cronico che noi possiamo vedere i risultati diciamo risultati di incisione su quella che è la genetica questo lo possiamo dire con una certa certezza scusate il gioco di parole non perché siamo noi a dirlo ma semplicemente perché la scienza farlo attraverso studi e esperimenti che sono stati condotti e me ne viene uno in mente che di cui ho letto e in particolar modo in Finlandia un professore un fisiologo dello sport ha condotto un esperimento su un gruppo di atleti sciatori di un certo livello e alla fine di questo studio è stato rilevato che gli atleti avevano un quantitativo di fibre lente superiore dell'11% e tutto questo dopo 8 anni quindi abbiamo due dati fondamentali il primo è l'11% che ci dice che veramente non è poco quindi caspita se si può incidere sulla genetica è chiaro che non possiamo stravolgere tutto questo è ovvio ma possiamo comunque lavorarci sopra e il secondo è che sono gli 8 anni questo ci fa capire quanto bisogna lavorare e duramente ovviamente potendo disporre anche di una certa continuità e di una certa intensità degli allenamenti quindi si tratta, lo sottolineiamo ancora una volta, di una trasformazione nel cronico in un certo senso però questo concetto non è poi così nuovo se ci riflettiamo soprattutto magari per i più esperti del mestiere ma anche per chi è semplicemente abbazzicato in questi ambienti da tanto tempo cioè in quello del polismo saprà sicuramente avrà sentito parlare almeno una volta dell'evoluzione dell'atleta quante volte abbiamo detto che soprattutto i giovani atleti non devono essere mai spompati in giovane età in particolar modo quando viene annusato e quel talento che si percepisce che c'è della magia buona in quel ragazzo l'attitudine di molti è quella di voler ottenere tutto e subito questo è il più grande errore che si può commettere perché tutto quello che possiamo ottenere è solamente che il ragazzo possa esprimere posso fare come dire il botto iniziale per poi andare ovviamente in stallo se non addirittura decadere del tutto quindi è un concetto che abbiamo sentito più volte e che ci fa capire che è solo come dire nella tarda età che si può arrivare a vedere l'evoluzione dell'atleta quindi intorno ai 27 28 anni a salire basti pensare che a tratti di un certo spessore che spesso e volentieri in giovane età abbiamo visto esprimersi benissimo sui 1.500 e 5.000 metri e sui 10.000 prima che possano esordire appunto sulla mezza maratona e sulla maratona con tempi diciamo importanti ci vuole molto tempo proprio perché si deve attendere quella che è l'evoluzione del potenziale dell'atleta anche per oggi abbiamo messo tanta carne a cuocere quindi ci fermiamo così vi ringraziamo come sempre dell'attenzione vi ringraziamo come sempre dell'affetto e della fiducia che ogni giorno ci date e vi invitiamo come sempre a non esitare a contattarci a scriverci a rivolgerci domande e dubbi e incertezze e ovviamente nel nostro piccolo cercheremo sempre di dare una risposta e di arricchire ancora di più la vostra esperienza di appassionati e di amatori e perché no anche di agonisti vi invitiamo come sempre a rivolgerci qualsiasi domanda, a scriverci dubbi e incertezze nel nostro piccolo cercheremo sempre di darvi una risposta e di contribuire perché no in qualche modo a quella che è la vostra passione quotidiana un saluto da me e dal codirettore Marco Gascone e alla prossima come sempre grazie